Intanto noi siamo partiti con una campagna che è This Ischia, perché anche qua vedete la comunicazione, faccio un appello a tutti voi, siete a volte responsabili di danni che vengono fatti, perché sembrava nel racconto di Ischia che Ischia fosse stata seppellita dal fango, così non è. Non lo dico ai giornali italiani, ma soprattutto a quegli stranieri che facevano questi titoli a tutta pagina come se Ischia fosse stata distrutta. Allora io dico che dopo la tragedia, perché ricordiamo che sono morte delle persone, non dobbiamo mai dimenticarlo, però non si può aggiungere un'altra tragedia di far perdere la stagione turistica. Quindi come Ministero siamo partiti con questa campagna perché dobbiamo far vedere al mondo che Ischia è in buona salute.